Al Teatro Costa Bianca di Real Monte l'11 e 12 agosto si svolgerà la prima editoria festival Scala dei Turchi. La direzione artistica è affidata a Luciano Carrubba, al nostro microfono. Sì, siamo pronti, tutti i preparativi sono stati ultimati per ritrovarci insieme due serate, l'11 e il 12 agosto proprio a Teatro Costa Bianca. Nove case editrici siciliane saranno presenti a questa manifestazione e non solo. Gli editori presenteranno anche alcuni dei loro autori. Saranno due serate ricche, abbiamo voluto dare un ordine tematico. Quindi le diverse case editrici con i loro editori sono stati raggruppati nella loro presentazione in dei temi. Partiremo infatti con Strada degli scrittori ed intorni, con la presenza di Felice Cavallaro, Presidente degli Astriati degli scrittori, che presenterà il suo libro Ciacciale eretico, ma anche Angelo Petrone, Salvatore Piccone e lo stesso Antonio Liotta, una pubblicazione su Antonio Russello. Poi daremo un ordine tematico alla storia, ai miti, con un altro gruppo di autori, ma ci saranno anche altri scrittori da parte di case editrici provenienti da Palermo, Messina. Quindi due serate veramente ricche. È un invito che rivolgo, che rivolgo alla comunità di Real Monte, ma rivolgo a tutti. Proprio perché saranno due serate in cui si avrà la possibilità di conoscere nuovi temi, affrontare un tema anche da prospettive diverse, essere incuriositi da nuovi autori, quindi avere la possibilità di nuovi spunti di riflessione. E le due serate saranno coordinate da Salvatore Piccone e Antonio Liotta. Un invito quindi personale che rivolgo a tutti a venire a Real Monte, venire al Teatro Costa Bianca, nelle serate di 11 e 12 agosto, a partire dalle ore 20.